Il Partito Democratico di Pescara sostiene che a Villa Basile non si debba costruire e lo ha ribadito nel corso di una conferenza stampa svoltasi in mattinata. La conferenza stampa di oggi è per ribadire la posizione del gruppo PD al Comune di Pescara su questa importantissima area che è appunto la collina di Villa Basile e noi l'abbiamo intitolato Un patrimonio da difendere. Una premessa c'è da fare sicuramente, quella delle costruzioni per noi rappresenta un volano economico fondamentale per questa città. Il settore dell'edilizia è sempre stato un settore trainante dell'economia della città e quindi siamo favorevoli tra l'altro a un rilancio di questo settore e auspichiamo all'amministrazione di introdurre nuovi strumenti che siano capaci di rilanciare questa importante attività economica. Nuovi strumenti che vadano nella direzione che è l'unica noi crediamo possibile che è quella della compatibilità ambientale e soprattutto quella della tutela della qualità della vita. Pescara deve continuare a essere sempre di più una città dove valga la pena di venire a vivere e per fare questo noi ci siamo battuti nella passata amministrazione e oggi continuiamo a batterci per tutelare alcune aree strategiche, preziose, fondamentali della nostra città come appunto l'unica che è rimasta che è quella della collina di Villa Basile. L'abbiamo definitivamente destinata a verde pubblico, oggi ci sono alcune iniziative che potrebbero addirittura ridare la possibilità, anche se in minima parte, alla possibilità edificatoria, quindi a costruire. Noi riteniamo che quella collina vada preservata a verde, che il diritto maturato che aveva la ditta Caldora già dal 98-99 vada risarcito come ha stabilito la sentenza del TAR con una cifra che pare sia sul 1.180.000 euro e credo che sia giusto perché il diritto va sempre tutelato, non va assolutamente dato in cambio la possibilità o in alternativa la possibilità di costruire perché noi vogliamo che quella venga tutelata. Oggi abbiamo questi fondi perché abbiamo una cospicua entrata che è arrivata per il rimborso ICI al comune di Pescara di circa 3 milioni e mezzo di euro per cui c'è questa cifra che può preservare quella collina.